E guarda, tu sai quanto mi piace questo allenatore, quindi sono contento che faccia questo salto di qualità dopo aver fatto secondo me un gran bel campionato con il Bologna. La Juventus è un'altra cosa, lui lo sa benissimo, allenatore di grande personalità, d'utilità tattica. Non ci aspettiamo di vedere, lo sai che non amo questa definizione, un giochista estremo, ma un equilibratore. Sono convinto che la Juventus con lui possa fare un percorso importante, va sostenuto, va supportato. Mi sembra che i primi segnali siano molto buoni perché questo Douglas Luiz è un giocatore che può dare tantissimo al centrocampo della Juventus e anche all'idea di calcio di Tiago Motta che, ripeto, sarà un mix tra un calcio anche conservativo e propositivo. Io direi di presentarlo in questa maniera, avvisiamo tutti, non ci aspettiamo di vedere una Juventus sempre in pressione alta. No, sarà una squadra molto equilibrata. Ieri abbiamo analizzato un po' del cammino con il Bologna di Motta. Il Bologna ha vinto nove partite di corto muso, ha pareggiato altre partite, ha vinto delle partite giocando male e serva anche questo nel calcio. Esatto. Quindi io credo che la nuova figura dell'allenatore moderno è quello che sappia unire più cose. E Tiago Motta secondo me è questo e adesso aspettiamo il campo. Credo che questo esperimento, questa scelta qui della Juventus, sia una scelta molto entusiasmante e che porta a una ventata nuova, Vincenzo. Qualcosa di diverso e mi è piaciuto anche il fatto che lui ha subito mandato un messaggio all'indirizzo dei tifosi. E questo secondo me è una bella sottolineatura.